Siete tutti così carini! I vostri genitori verranno a prendervi presto! Oh, ciao, Huggy! Ciao, The Light! Dov'è il mio bambino? Oh, grazie! Stami bene! Anche tu! Presto verranno anche a prendere voi! Mi sei mancato così tanto! Posso? Grazie, The Light! Andiamo a casa, tesoro! Ne è rimasto solo uno! Oh, ciao! Fammi vedere il mio bambino! Eccolo! Aspetta, questo non è il mio! No, non è il mio! Lo lasci qui? Non va bene! Vieni, piccola! Mi prenderò io cura di te! Ecco la tua nuova casa! Ciao, amore! Guarda chi c'è! Ciao, tesoro! Wow, che bambino adorabile! Questo è il nostro bambino! È ora di mangiare! Oh, che dolce! È ora di riposare! Miau! Stai diventando così grande e così carina! Sì! Voglio guardarmi! Ah, che peccato! Sono solo una bambina normale! Non essere triste, tesoro! Puoi essere chiunque tu voglia! Aspetta, ho un'idea! Facciamo un vestito? Caro, è un'idea fantastica! Proviamo! Tutto fatto! Grazie, mamma! Lo adoro! Ehi, Catten Up! Hai visto il mio vestito fantastico? Non è adorabile! Oh, no! Che ci fa qui? Ciao, vicini! Mi prude tanto! Come va? Bene! Ma potresti farti da parte? Devo controllare una cosa! Diamo un'occhiata da vicino! Oh, no! Proprio come pensavo! Hai le pulci! So cosa potrebbe aiutare il mio profumo magico! Ottima idea! Pronta? Truntrick! Che ne dici? Non ha funzionato! Credo che le pulci si siano arrabbiate! Io so cosa fare! Le faremo saltare in aria! Truntrick! Wow! È forte! Tieniti forte! Caro, basta! Mi sta soffiando tutto addosso! Smettila, per favore! E adesso? Non è rimasta neanche una pulce! Grazie! È stato davvero rinfrescante! Ecco un regalo! Wow! È stato un piacere aiutarti, amico! Stammi bene! Ciao! Sembra che sia il nostro giorno fortunato! Preparerò qualcosa per il bambino! Truntrick! Uh, cara! Fai attenzione! Non è carina? Che bella gonna! Tesoro, vieni qui! Arrivo! Wow! Grazie mille! Ti meriti solo il meglio, piccolina! Ehi! Volete giocare a Twister? Oh! Ehi! Entra pure! Sono felice di vedervi! Allora, Delight, vuoi giocare? Certo! Facciamolo! Giallo! Fatto! E adesso? È così divertente! Siete uno spazzo! Ah ah! Anche tu! Oh! La mano! Tesoro! Ti sei fatta male! Alzati! Non preoccuparti! Andrà tutto bene! Lascia che ti aiuti! Speriamo non sia rotto! Tieni duro, cara! Guarirà presto! Come stai? Spero che tu stia bene! Mettiamo una sticker divertente per tirarti su! È così carino! Proprio come te! Siete davvero ottimi, amiche! Disegniamo qualcosa sul gesso! Questo la aiuterà a guarire! Grazie! Ciao! Ciao! Come ti senti? Siete stati così carini! A proposito! Ecco qua un nuovo amico! Ti tirerà sul morale! Opa! Ancora male! Poverina! Ha bisogno di una mano! Ho un'idea! Presa! Non preoccuparti! La prenderò! Questo lo vedremo! Non mi prenderete mai! Ho capito! Vieni qui! Presa! Ora decoriamo! È così soffice e carina! Ti piace? Sì! Ma non riesco a tenerla in mano! Ho un'idea! Pronta? Trun trick! È una coda! Ancora meglio! È un nuovo braccio! Wow! Wow! Super cool! Batti il cinque! Fantastico! Ora tutti ci daranno il cinque! Guarda qua! Evviva! È quel giorno! È il tuo compleanno, tesoro! Auguri! Questo è il tuo giorno speciale! Ora chiudi gli occhi! Arrivo a una sorpresa! Ok! Sorpresa! Wow! Una festa solo per me! È fantastico! Buon compleanno! E ancora un trucchetto trun trick! Evviva! Grazie mamma! Il mio braccio! Ho un regalo per te! Wow! Grazie! Chissà che c'è qui dentro! Wow! Che bello! Grazie! Wow! Che bel regalo! Queste orecchie sono così carine! Stai benissimo! Aspetta! C'è di più! Facciamo una foto! Trun trick! Haha! È venuta benissimo! Bene, bene, bene! Che sta succedendo? Wow! Che confusione! Ehi! Dove credete di andare? E tu chi sei esattamente? Sono l'ispettore sociale! E la tua famiglia non sembra normale! Quindi dovrò prendere questa bambina! No! Ridacci nostra figlia! Haha! Questo non è possibile! Andrà all'orfanotropio! Per favore, ridaccela! Ti prego! Le vogliamo tanto bene! Non separarci! Vuoi che torni? Allora mettete un sacco di like! O la porterà via con me! Ragazzi, per favore aiutateci! Mettete like a questo video! Non lasciate che prenda nostra figlia! Per favore, abbiamo bisogno di like! Aiutatemi a tornare dalla mia famiglia! Evviva! Non posso crederci, ma tornerò! Grazie mille! Non ce l'avremmo mai fatta senza di voi! Penso di essere perfetta! Fantastico! Ho un'idea! Trun trick! Vediamo che c'è lì dentro! Wow! È splendido! Oh, tesoro! Non ti interromperò! Che bello! Devo ottenere qualche stella per me! Wow! Sono così fortunata! Penso di poter creare qualcosa di fantastico con queste! Trun trick! Cara, basta! Mi accecherai! Oh! Preso! Guarda, cara! Eccolo qua! Wow! È incredibile! Sei così intelligente! Tesoro, devi vedere questo! Oh, grazie! Uniamoli! Trun trick! Non è bellissimo? Super figo! Tesoro, batti i cinque! Oh! Aiuto! Per favore, toglietemelo! Tieni duro! Wow! È stretta! Finalmente! Come ti senti? Mi fa ancora male l'orecchio! Abbiamo bisogno di una benda! Ti sentirai meglio! E adesso come stai? Oh, grazie! Mi aiuteresti anche con l'occhio? Non preoccuparti, ho la soluzione! Queste sono gocce per gli occhi! Andrà tutto bene! Trun trick! Wow, grazie! Sono fantastiche! Aspetta! Oh, non è niente! Questi sono per te! Oh, che male! Oh, che figura! La mia gamba! Prendi questo! Oh, ce l'ho fatta! Stai bene? Sono contenta che vada tutto bene! Grazie mille! Va bene! E allora ciao! Ciao, ciao! Tempo di pulizie! Tutto risplenderà! Basta! Ne ho abbastanza! Ora basta! Che succede? Guarda che confusione! Sono stanca di tutta questa spazzatura! Aspetta! Non è spazzatura! È un guanto? Ok, ne ho abbastanza! Ora pulisci! Ok, subito! Oh! Ho un'idea! Combiniamo il guanto con lo straccio! Perfetto! Guarda, tesoro! Wow! Devo farlo vedere alla bambina! Penso che le piacerà moltissimo! Ottimo lavoro, caro! Sono un genio! Continua a pulire! Mmm, d'accordo! Tanto talento sprecato! Ciao, mamma! Ciao, papà! Ciao, tesoro! Oh, tesoro! Sei arrivata! Guarda cosa abbiamo fatto per te! Wow! Che bello! Grazie! Sono contenta! Oh, credo che tu abbia bisogno di scarpe nuove! Che c'è che non va in queste? Mmm, vediamo! Oh, perfetto! Proprio quello che serve! Ehi! Che succede? Tesoro, nasconditi! Dobbiamo fermare tutto! Ci penserete voi, vero? Attenta, faccino rosa! Vai avanti, tesoro! Io credo in te! Che succede? Ah, che spigata! Sparisci! Per favore, basta! Sei proprio uno scherzo della natura! Che è questo giocattolo? Prendi questo! Deve finire nel gabinetto! Per favore, lascialo! Non farlo! Perché che farai? Ciao, ciao! È ora di tirare lo sciacquone! Perdete! Ma che hai fatto? Mi piaceva tanto! Ah, questo piccolo bullo! Ci occuperemo di lui! Oh! È stato un grosso errore! Oh! Aiuto! Beh, ciao! Oh no! Sono circondato! Chi siete? Ah, mi avete salvata! Figurati! Siete i miei eroi! Voglio essere come voi! Farei qualsiasi cosa! Per favore! Va bene! Troom trick! Ecco tutto quello che serve! Wow! Che figata! Vieni, ti faccio vedere! Qui è dove avverrà il tuo makeover! Mi piace tanto! E tutti questi vestiti! Che bella maglietta! Posso provarla? Cosa? Tesoro, forse puoi trovare qualcosa di meglio! Abbiamo già tante cose da fare! Da dove iniziamo? Tesoro? Miss Delight? Come sta? Oh! Hai un ottimo gusto! Però posso migliorare il tuo stile! Troom trick! Wow! È una maglietta come la tua! Solo il meglio per te, tesoro! Oh! Guarda la lista! Presa! Guarda questa mela! Questa è per aver completato la missione! E se la mangio? Così sbloccheremo la prossima attività! E allora facciamolo! Finisci di mangiare, piccola! Guarda, abbiamo sbloccato il compito! Dove possiamo trovare una cravattina per te? Credo di saperlo! Eccola! Troom trick! E ora facciamo il pieno di energia! Ops! Qualcosa è andato storto! Ehi, torna qua! Ti prenderà lo stesso! Ecco fatto! Non potrai scappare! La mia matita ti raggiungerà ovunque! Ora va meglio! Oh! Un'altra mela! La bambina la adorerà! Vado a cercarla! Cara! Ecco la cravatta! Vuoi provarla? Wow! Ehi, sei cambiata! Davvero! Che figata! Sembra buona! Gnam! Mamma, guarda! Un altro compito! Va bene per il trucco! Ma certo! Lascia che ti aiuti! Cominciamo con le liner! Bene, continua! Ok, tesoro! E ora disegniamo questi! Bellissimo! Sembro una modella! Credo che manchi qualcosa! Ci sono arrossisci! Wow! Che ne pensate, ragazzi? Guarda, abbiamo completato un'altra missione! Oh! Voglio disegnare qualcosa! Sarà un capolavoro! Ok, ci vediamo presto! Ciao! Buongiorno, classe! Salve, signorina Delight! Oggi è splendida! Cut nap! Posso dire lo stesso di te! Oh, il mio cuore batte fortissimo! Ehi! Ha ha ha! Preparati per il secondo round! Ti schiaccerò! Ha ha ha! Questo lo vedremo! Miss Delight! Mi orrendo! Ha ha ha! Trappo tardi! Oh! Potrei avere bisogno di questa! Oh, Delight! Ti sono così grata! Cut nap! Mi fai arrossire! La prego di accettare questo regalo! Sei così dolce, cut nap! Grazie! Chiamami! Certo! Luce dei miei occhi! Ciao ciao! È così dolce! Oh! Sei ancora qui, cara! Sono tornata! Mamma! Ciao! Sono felice di vederti! Guarda che cosa ho disegnato! Wow! Ti sei guadagnato un regalo! Oh, grazie mamma! Buon appetito! Gnammo! Hai sbloccato un nuovo compito! Dobbiamo comprare dei pantaloncini a pua! Oh, certo! Ho preso qualcosa a scuola! Wow! Con che sciabbina! Con tutto quello che vuoi, cara! Tadam! Forse dovremmo controllare? Facciamolo! Lo distruggerò! Yuhuu! Facciamo vedere a questo straccione chi è il capo qui! Troom trick! Wow! È venuto benissimo! Perfetto! Sei! Ora faremo dei pantaloncini per te! Cominciamo! Fatto! Ok, tesoro, provali! Wow! Perfetti! Grazie, mamma! Non c'è di che, cara! Dobbiamo ancora trovare un gilet! Aspetta! Che è successo qui? Cos'è questo casino? Ti ho preso, Miss Delight! Vediamo come maneggi la colla! Ehi, perché è così appiccicosa? Non riesco a controllarla! Che c'è che non va? Il mio piano ha funzionato! Tieniti forte! Wow! Fermati! Ma che ti prende? Ora sbettila! Non funzionerà! Non funzionerà! Basta così! Chi è stato? Ok, mi ero completamente dimenticata del gilet! Penso che questo andrà bene! Oh, ci sono! Troom trick! Ecco qua, Miss Delight! No, ridammelo subito! No, non ci penso proprio! La romperò! Uh, è resistente! Allora la rosicchierò! Non sbavarci sopra! Ma di che è fatta? Ehi, ma dov'è finita Delight? Era proprio qui! Non capisco, molto strano! Beh, eccomi! Ridammi la mia mazza! E ora è il momento di darti una lezione! Troom trick! Ora non mi darai più fastidio! Becchi una D per il comportamento! Oh, ce l'ho fatta! Devo farlo vedere alla bambina! Tesoro, il gilet è pronto! Indossalo! Oh, è perfetto, mamma! Lo so, però manca la mela! Wow, che figata! Guarda, abbiamo completato il compito! Ora serve una nuova mela per il compito! Oh, che confusione! Ehi, Catnap, come stai? Puliamolo! Sei così carino! Troom trick! Delight, ci incontriamo di nuovo! Oh, non vedevo l'ora! E tu? Certo, cara! Vuoi ballare? Oh, sei così romantico! Solo quando sono con te! Ora ti guiderà! Oh! Grazie per il ballo, caro! Ops! Credo di aver esagerato! Oh, l'ho trovata! Troom trick! Fatto! È ora di sbloccare una nuova task! Allora, diamo un'occhiata! Gnammi! Così buona! Cosa? Non ha funzionato? Un altro morso? Oh! Perché non succede niente? Oh, ho capito! Servono dei like! Ragazzi, per favore aiutatemi! Se otterremo abbastanza like, scopriremo qual è il prossimo compito! Vi prego, aiutatemi! Ne abbiamo bisogno! Sì, un like in più ci aiuterà! Vi prego, aiutatemi! Uh-uh! Grazie mille! Fantastico! Ce l'abbiamo fatta! E questo chi è? Miss Delight! Sì, è per me! Che dolce! È di Catnop! Lo sapevo! Ehm, io me ne vado! Li conserverò per sempre! Oh, e c'è un fiocco! Grazie, caro! Troom trick! Ora mettiamoci al lavoro! Con le forbici, ritagliamo un quadrato di Fomirun! Facciamo un altro paio di ritagli! Fantastico! E ora creiamo un bel fiocco! Vediamo cosa abbiamo ottenuto! Uh-uh! Fatto! La bambina ne sarà felice! Uh! E quello cos'è? Vuoi giocare? Beh, facciamolo! Non ci prenderai! Questo lo dite voi! Troom trick! Oh, il mio premio! Dov'è mio fratello? È Miss Delight è scomparsa! Che strano! Ed eccomi qui! Grazie, amico! Tesaro, vieni qua! Mamma, volevi vedermi? Provali! Che sono? Calzettoni colorati! Oh, anch'io ho qualcosa! Mi aiuti con l'acconciatura? Non posso indossare il fiocco senza! Va bene, proviamo! E... tagliamolo! Mamma, puoi farcela! Che ne dici? No, quella è l'acconciatura di Dog Day! Riprova, avanti! Va bene, cara! E ora? No, quella è per Catnap! Prova di nuovo! Certo, tesoro! Troom trick! Oh, ho capito! Guarda che bella! Ce l'abbiamo fatta! I miei capelli! Wow! Ti stanno bene, cara! Vuoi provare il fiocco? Certo, è fantastico! Mamma, ho ancora bisogno della mazza, però! Ma sono così stanca! Tesoro, ora devi riposare! Lascia che ti rimbocchi le coperte! Dormi, cara! Grazie, mamma! Piccolo angelo! Io vado a cercare la mazza! Credo di sapere dove trovarla! Bene! Andiamo! Ci sono molto vicina! Il tricker indica che è proprio qui! Ops! Catnap, ci incontriamo di nuovo! Aspettavo questo momento! Troom trick! È un velo! Wow! Mi vuoi sposare? Siete pronti? Certo! Vi dichiaro marito e moglie! Finalmente questo giorno è arrivato! E io lo stavo aspettando così tanto, cara! È così dolce! Oh! Sì! Oh! Congratulazioni! Woohoo! Ed ecco il regalo di nozze da parte di tutto il Poppy Playground! Incredibile che avete preparato per noi! Ehi! Wow! Ho sempre sognato una famiglia felice! Piccola! Anche noi abbiamo lo stesso sogno! Ora sei parte della famiglia! Woohoo! Sono così felice! Prendete! È mio! L'ha visto per primo! Benvenuta! È così bello qui! Voglio essere come te! Di sicuro possiamo organizzarci! Guarda! Qui c'è tutto quello che serve! E se completi tutti i passaggi, sarei proprio come la mamma! E ora passiamo al trucco! Stai dritta! Ci pensa la mamma! E non è tutto! Sorridi! Così! Wow! Ti somiglia proprio! Solo che i capelli sono diversi! So come rimediare! Non va bene! Guarda! Sono anche sulla lista! Allora mettiamoci al lavoro! Wow! Che cos'è? Scegliamo insieme un'acconciatura! Allora? Quale ti piace? Devo pensarci! Scegli questa! Ti starà benissimo! Che c'è che non va? Aspetta papà! So come fare! Questa! Va bene piccola! Vediamo se ha funzionato! Oh! Ragazza intelligente! E ora proviamo con questa! Wow! Mi piace molto! Che carina! E ti sta davvero bene! Sei perfetta! Certo! Oh! Devo andare! Non annoiatevi! Scegliatevi! Puoi aiutare la bambina con la gonna! Certo cara! Magari diamo un'occhiata al tuo guardaroba! Che ne dici? Vediamo! Oh! Non vedo l'ora! Aspetta un attimo! Troverò il vestito migliore! Che figo! Mi sono fatto male! Ok! Lo prenderemo dopo! Ci serve una gonna! Wow! È una motosega? Che ne dici di questa? Perché? A che ci serve? Non è carina? Ok! Basta scherzi! Ed eccola qui! Credo che questa gonna sarà perfetta! Vediamo! Sembra troppo grande! E adesso che facciamo? Oh! Ho un'idea! Ora la motosega ci tornerà utile! Non dirai sul serio! Non preoccuparti! Lanciala! Ok! Troom trick! Allora adesso che facciamo? Ottimo lavoro papà! Buongiorno classe! Mommy! Scusi signorina Delight! C'è un errore! Oh! Sta parlando di questo! E adesso che vuoi? No! È sbagliato! Oh! Allora forse questo... Sbagliato di nuovo! La prego non mi punisca! No! C'è un errore in ogni parola! Questo non va bene! E ora siediti! Pensavo sarebbe andata peggio! Hai preso tutto? Torna al tuo banco! E non devi correre cammina! Chiaro? Ora niente potrà fermarmi! Oh oh! Sono tornata! Come vanno le cose? Ciao mamma! Guarda la mia gonna! Wow! Ottimo lavoro! Io ho una sorpresa per te! Lascia che te la mostri! Eccola! E questo cos'è? Sembra un libro da colorare! Ho capito! Hoppy in salata verde! Chicken è giallo! Ma dove sono gli altri colori? Ops! Scusa cara! Ottimo! Continuiamo! Mommy è rosa! Che bambina intelligente! Ed ecco il tuo premio! Fantastico! Grazie! Te lo sei guadagnato! Ah! Che possiamo aggiungere? Una maglietta? Forse possiamo trovare qualcosa qui! Ho un sacco di camice! Che ne dici di questa? Uh uh uh! Molto divertente! Vero mamma? Non va bene! D'accordo! Proviamo con qualcos'altro! Uh! Proprio quello che serve! Va bene! Mi è mancato di nuovo! Che ne dici di questo? No! Papà! Caro! Abbiamo bisogno della stessa! Ok! Ci sono! Guarda! Proprio come la tua! Troom trick! Wow! È perfetta! Uh! Voglio la stessa mela! Uh! Nessun problema! Ma prima prendila! Devi superare il labirinto e prendere la tua mela! Uh! Penso di potercela fare! Come posso scegliere? Solo quella rossa raggiunge la mela! Quindi devo scegliere Dog Day! Wow! Sei davvero intelligente! È la risposta giusta! Ed ecco la tua ricompensa! Ora faremo una bella mela anche per te! Per prima cosa tagliamo la forma della mela dal pomiran rosso! Ecco qua! Penso sia avvenuta benissimo! E ora il tocco finale! Una foglia e un ramo! Caro, puoi aiutarmi? Ma certo! Prendo la pistola con la colla a caldo! Grazie mille! Sei così carino! E ora assembliamo tutti i pezzi! Davvero perfetta! La mela è pronta! Ma forse possiamo renderla ancora più bella con un po' di glitter! Che ne dici, eh? Bastano un paio di pizzichi di glitter e la mela brillerà come un diamantino! Wow! Uh! Cara, e la parte superiore? Eccellente! Troom trick! Beh, che ne dici tesoro? Penso sia venuta perfetta! Vuoi provarla? Fantastico! La adoro! Grazie! Wow! Ti sta benissimo! Sei bellissima! Oh oh! Sono già in ritardo! Torno presto! Ehi, ma che sta succedendo qui? Ah! Ora comando io! E tutti prenderanno una F! Huggie? Signorina Delight? Questo non è il tuo posto! Oh scusi! Non lo farò più! Lo prometto! Ora vai alla lavagna! Oh che paura! Ok! Ho un compito per te! Disegna una casa con una sola linea! Va bene! Ci proverò! Così va bene? Sbagliato! F è impossibile! Va bene! Ti farò vedere solo una volta come si fa! Ricordatelo! Wow! Sei proprio brava! Sei proprio brava? Ciao mamma! Ehi, Huggie! Credo di avere fame! Voglio mangiare! Ho capito! Vediamo cosa abbiamo qui! Gnammi! Ne vuoi un po'? No! Io non sono un gatto! Ma è gustoso! Beh, ok! E il latte? Non mi piace! Sei un po' schizzinosa! Ok! È rimasta un po' di pizza! E come si mangia questa? Oh, fantastico! Pizza! Fermati! Di prima laviamoci le mani! Ok! Lo farà subito! E ora posso? Le mie mani sono pulite! Eccellente! Buon appetito, piccola! Oh! Delizioso! Gnammi! Grazie! Ecco qua! Om nom nom nom! Sono così piena! A chi lo dici? Guarda e impara! Oh! Ho sonno! Oh no, tesoro! Non dormire! Che ho fatto? Questo no! Devo svegliarla subito! Oh no! Troppo tardi! Non posso farcela da solo! Ma certo! Questo la sveglierà molto in fretta! Avanti! Perché non funziona? Forse l'ossigeno è finito! Aha! Per riempirlo servono dei like! Ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto! Solo con i vostri like potrà svegliare la bambina! Per favore, un po' più like! Il vostro like! Il vostro like sarà decisivo! Vi prego, aiutateci! Fantastico! Ce l'abbiamo fatta! Ho dormito così bene! Oh no! Che succede qui? Eh... Proprio niente! Piccola, stai bene? Sì, è solo che ho sonno! Forse sei un po' stanca! Esattamente! Devi riposare, tesoro! È proprio un angioletto! Dormi, cara! E ciù! Oh! Da dove viene tutto questo pelo? Caro, lo stai spargendo di nuovo? Che prurito! Oh! Credo che questo potrà tornarmi utile! Raccogliamo tutta la pelliccia dal divano! Cut on up! Basta! Ma, cara, non posso farne a meno! Ok! E come faccio a grattarmi adesso? Non riesco ad arrivarci! Lascia che ti aiuti, caro! Non è per niente male! Anzi, è anche bello! E tu che eri preoccupato? Hai così tanta pelliccia! Wow! Mi sento come nuovo! Grazie, cara! A proposito, la mazza! Credo sia ora di farne una per la bambina! Sulla lista! Guarda! Hai ragione! Perfetto! Vediamo cosa abbiamo! Oh, adorabile! Ma il mattello è troppo leggero! Ehi! Fai attenzione! Che simpatico! Gratta e Vinci! Ma non ci serve! Aha! Proviamo ancora! Ti faccio vedere il vero kung fu! Un pollo! Ma dov'è? Finalmente! La mia prima mazza! Caro! Come faccio a sollevarlo? Amore, dallo a me! Forse ora possiamo svegliare la bambina, no? Buongiorno! Cara, io e il papà abbiamo preparato qualcosa per te! Ma prima devi vincere! Sarà facilissimo! Prendi questo, Aggie! Anche tu dovresti andare sotto terra! E ora l'ultimo! Che ragazza intelligente! E ora agita un po' la mazza! Così? Wow! Che figata! Starete benissimo insieme! E l'ultima cosa! Oh! Dov'è la mamma? Buh! Mamma! Sei così divertente! Proviamo con papà! È ora di andare al lavoro! C'è così tanto da fare! Credo di essere pronta! Tac, tac! Buh! Buh! Mi hai spaventato! Non è intelligente! Sono in ritardo! Devo andare! Buona giornata, ragazze! A quanto pare ce l'ho fatta! Che confusione! Questo non va bene! E questo va qui! Perfetto! E ora finalmente è tutto a posto! L'allarme! Oh no! Non questo! Cosa? Nessun ladro può entrare qui! Oh! Non mi sento molto bene! Oh! Dove sono? Oh no! Fatemi uscire! Oh oh oh! Rimarrai qui per molto tempo! Oh no! Rimarrai qui finché non diventerai proprio come me! Oh no! Che incubo! Che incubo! Siediti e stai zitta! Ladra! Ehi! Quello cos'è? Eh? Ti ho detto di stare zitta! Mi chiedo cosa sia! Un manuale su come diventare Katnath! Wow! Ora potrò di sicuro uscire! Ma io voglio la versione ghiacciata! Semplicemente fantastico! Beh, non perdiamo tempo! Da dove iniziare? E qui che c'è? Perfetto! Possiamo iniziare a truccarci! Oh oh oh! Questo è il mio colore preferito! Ora somiglio di più a un gatto! E qui abbiamo degli ombretti! Sì! Semplicemente bellissimi! E ora spiomiamo il tutto! Che ne pensate ragazzi? Vi piaccio? Oh! Ho dimenticato qualcosa! Lascia fare a me! Proprio quello che serviva! Occhi neri! Esattamente come quelli di Katnath! Wow! Che bello! Il primo punto è stato completato! Forte! Ma non ho un costume! Ho un'idea! Ma certo! Devo solo raggiungerlo! Davvero no! Ehi Elsa! Lascia che ti aiuti! Trom trick! Oh! Ora lo prenderò di sicuro! Allora proviamo! Dovrebbe funzionare! L'ho preso! Beh! Eccoti qui! Non funzionerà! Trom trick! Fantastico! Ora mi preparo un bel labito chic! Cucciamo il tessuto! Oh! È così morbido! Mi piace! E questo cos'è? Meo! Oh! Fa le fusa! È un acrobat! L'hai visto? I catnap! Prova questo! Cosa? Prendi! Wow! È un massaggiatore! Proviamolo! Oh! Sono in paradiso! Sono contenta! Oh! Indosso ancora le mie vecchie scarpe! Devo rimediare! Hai bisogno del mio aiuto? Usa la magia! Grazie per il consiglio! Troom trum trick! Non è ancora quello che mi serve! Spero possa risolvere il problema! Troom trick! Ora rimuoviamo l'eccesso e voilà! Ehi! Che c'è che non va? Tempo di pulizia! Esci! Forza, signorina! Uh-uh! Sono libera! Vieni con me! Questo è il posto giusto! Quando tornerò, tutto dovrà brillare! E non pensare neanche di scappare! Questo è per essere sicuri! Ora puoi iniziare! Ciao! Ciao! Forse stava scherzando! Dovrò pulire per un sacco di tempo! Come si può ridurre una stanza in questo stato? Uh! Allora! È questo che puzza così tanto! Sembra che non abbia troppa scelta! Oh! È difficile! Uh! Un album di foto! Wow! Che carino! Che bel gattino! No, non posso! Ah! Che carino! Ehi! Posso usare questo? Sì, lo terrò per tempi migliori! Grande! Ma stai scherzando? Ti ho detto di pulire! Torna in gabbia! Ciao, ciao! Ora siediti! Sei stato così carino! Beh, è ora di uscire con quello che ho trovato! Un attimo! Pensi di essere una principessa? Togliti quella corona! Oh! E adesso che posso indossare? Vediamo! Ma certo! Ma certo! Un piocco di neve! Sapevo mi saresti tornato utile! È ora di mettersi al lavoro! Avanti con queste forbici! Uh! Adorabile! Adesso che aggiungo? Elsa! Forse questo ti aiuterà! Brillantini! Prendili! Grazie Olaf! Mi hai aiutata tantissimo! Vediamo che succede adesso! Wow! Incredibile! Troom trick! Che bella! Ehi tu! È arrivato il momento di divertirsi un po'! Che ne dici? Di un giochino! Non la voglio! Oh beh! Che c'è di tanto difficile? Lanci la palla e il premio è la tua corona! Oh! Sono d'accordo! Grande! Allora prendi! Sì! Se miro all'ipotenusa dell'angolo dovrei farcela! Puntiamo e... Troom trick! Wow! Ops! Ehi! Ma non è giusto! Ha ha ha! Provaci ancora una volta! Stavolta la colpirò di sicuro! Ehi Katnup! Guarda! Cosa? La prenderò! Ce l'ha quasi fatta! Sapevo che avrebbe funzionato! E ora è il momento di prendersi la corona! Troom trick! Uh uh! Ho vinto! Impossibile! Ha imbrogliato! Oh oh! È tornato! Ah ah! Ehi! Ridammi la corona! Ok! La prenderò da sola! Per ora! Olaf! Dimenticati di lei! Guarda! Wow! Questa è una nuova corona! Grazie Olaf! Aspetta ma è chiusa a chiave! E adesso come faccio a togliere le catene? Non riesco a vederla! Non avere fretta! C'è un modo! Ma certo! Servono dei like per aprirlo! Ragazzi aiutatemi per favore! Vi prego di mettere dei like a questo video! Così potrò avere la corona! Vi supplico! Ne ho davvero bisogno! Penso che stia funzionando avanti amici! Sì esattamente! Tanti like! Sarò molto felice! Davvero! Solo una? Wow! Ce l'abbiamo fatta! Grazie a tutti! Non vedo l'ora di vedere la nuova corona! E sembra che dovrò realizzarla io stessa! Ce ne occuperemo in men che non si dica! Ritagliamo il modello d'Alfomiran! Sì! Semplicemente meraviglioso! E ora... Filo da pesca e perline! Trum trick! Che bei pezzi di ghiaccio! E anche un semicerchio! E ora... Piu piu! Pistola per colla! In questo modo terremo dei ghiaccioli! Non resta che decorare con i piocchi di neve! E incollare il cerchio! Trum trick! La corona è pronta! Wow! Ancora meglio di prima! Che figata! Oh sì! Possiamo cancellare un altro punto e passare ai guanti! Che bello! Potrei usarli! Ma questo cos'è? Non ti piace? Dovrei sopportarlo! Ha ha ha! Forza, ghiacciolina! Seguimi! Muoviti! Esamina tutti i giocattoli e fai in fretta! Ok, ho capito! Allora sbrigati! Ho cose più importanti da fare! Che carino! Tu andrai nello scaffale! E a te... Invece tocca questo posto! Chi è rimasto? Wow! Ciao, gemellini! Volete una barzelletta? Un giorno due draghi entrano in un barro! Uno dice che fa caldo! E il secondo dice... Non sputare fuoco su di me! Cosa? Che stupidaggine! È ora di tornare! Ehi! Dimentica la libertà! Ciao, ciao! Non ce la faccio più! Oh, perché mi prude così tanto? Oh, piccolo calzino! Nemmeno tu puoi aiutarmi! Sì, avanti! Oh! Olaf! Sono un mago e uno stregone! Tron-trick! Cosa? Wow! Che belle zampe! Nessun problema! Fantastico! Miu-miu! Oh, dita mancanti! Penso di poterle sistemare! Un attimo! Devo pensare! Ma certo! Fiocchi di neve! Che altro? Kane, per caso puoi aiutarmi? Ho bisogno di artigli! Ok! Allora condividili! Tron-trick! Wow! Quanti sono! Grazie, amico! E ora possiamo decorare i nostri guanti! semplicemente fantastici! Oh! Ho trovato il modo! Dobbiamo affilarli! Ora saranno perfetti! Puoi provarli! Tron-trick! Perfetto! Usiamo la pistola per la colla! Fatto! Ora le mie zampe non sono solo morbide, ma anche molto pericolose! Oh, wow! Sembra che manchi ancora la testa! Ma come faccio a prenderla? Sembra che io possa andarmene! Forse c'è qualcosa qui! Oh, no! Qualcuno sta arrivando! No, a quanto pare qui non c'è nessuno! Posso giocare! Sei davvero forte! Giocherai con te per tutto il giorno! Che carino! La mia palla! Questo non va bene! Dove sei? Torna! Miau! Credo che sia sparito! Via libera! Oh, è proprio quello che mi serviva! Credo di avere un'idea! Districhiamola! E ora ho bisogno che qualcuno districhi anche me! È arrivato il momento di ricordare le lezioni della nonna! Lavorare a maglia! Uno dopo l'altro! Uh, sto andando alla grande! Pronti! È il momento di provarla! La corona dovrà essere rimossa! Miau! Che figata! È fantastico! Sarà ancora più bello con la corona! Sarò semplicemente irresistibile! Miau! Miau! Uah! Non posso crederci! Ora sono libera, Ketton Up! Sono diventata come te! Quindi vattene! Oh, lo sapevo! Beh! Chi sei senza corona? Ah ah ah! Una pallita! Questo non va bene! E adesso che faccio? Oh no! Ciao ciao! E ora non potrai più uscire! Uah ah ah! Oh! È ora di fare merenda! Ed ecco il pranzo! Come farei senza di lui? Devo andare! Qui non c'è nessuno! Siamo arrivati! Ma dove sono? Benvenuta nella mia tana! E ora ti mangerò! No! Per favore! Hai ragione! Mettiamo un po' di sale! Cosa? Ma dove è venito il sale? Oh! Ho bisogno di un posto in cui nascondermi! Oh! Spero solo che non mi trovi! Non vedo nulla! Dove è andata quella bambina? Forse è qui? E ora controlliamo! Prendi questo! E ancora! E ancora! Che sta succedendo? Devo dare un'occhiata! Povero pollo! E adesso che faccio? Cosa abbiamo qui? Wow! Un tuorlo d'uovo! Nom 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 nom! Devo aspettare il momento giusto! Sembra sia scaduto! Oh no! Penso di essere fortunata! Spero solo che non se ne accorga! Oh! Mi sento meglio! Devo filmare tutto questo! Cos'è stato? Presa! Ora non potrai scappare! Guarda, piccolo paparazzo! Non funzionerà! E adesso che posso fare? Una palla! Vuoi giocare? Prendila! L'ho presa! È così carina! Oh! Ci è mancato poco! Pronto papà! Sbrigaci a venire! Sono già lì! Ehi! Ma che succede? Guarda! Oh! È strano! C'è qualcosa che non va, Kevin? Oh! Piccola! Basta con le bugie! Guarda, ho un cappellino per te! Credo che sia ora che tu te ne vada, Kevin! E noi ne parliamo dopo! Ora basta! Ti prego, non farmi del male! Oh! Papà! Scusa, ho dimenticato le chiavi! Oh! Eccole qui! Oh no! Un mostro! Sì! Cringe! Avanti! Più veloce! Seguimi! Andiamo! Ok! Ora dobbiamo nasconderci! Andiamo alle scatole! Dividiamoci! Ok! Spero solo che non ci trovi! Bene, bene, bene! Dove sono finiti? Devono essere in una delle scatole! Ma quale? È stato facile! Ha davvero sentito il mio odore? Sì! Sicuramente è lì! Questo odore è molto familiare! Ok! E ora iniziamo! Forza! Brucia! Fa così caldo! Non durerai a lungo! Ehi! Sei ancora lì? Ha da tanto che non vedo un fuoco! Ragazzi, per favore mettete un like a questo video così fermerete il fuoco! Oh oh oh! Cosa? Ma chi è stato? Che sta succedendo? Sono rimasto quasi senza piatto! Grazie ragazzi! Ora però è freddo! Ok! Questa è la mia occasione! Ciao ciao! Pensate che sia tutto qui! Vi sbagliate di grosso! Addio Kevin! Dove è andato? Wow! Che fortuna! Devo andarmene da qui! E devo fare in fretta! Oh! Anica! Oh Kevin! Ma che ti prende? Oh! Così va meglio! Ehi! Ma sono nudo! È così divertente! Molto esilarante! Non capisci! È una faccenda seria! Ascoltami! Gabriel è catnap! Sei fuori di testa? Ok! Allora spiegami da dove viene questa roba avanti! Gabriel adora i gatti! Lo sai? Non è vero e te lo dimostrerò! Non è vero e te lo dimostrerò! Oh! La mia mano! Fa male! Ti sei fatto male! Lasciami soffiare! Ok! Andiamo! Devi farti vedere da un medico! No! Non c'è tempo per questo! Ho detto di andare! Lasciami stare! Sta bene! Anica! Fammi uscire da qui! Dovrò farlo io stesso! Dimostrerò che non ho mentito! Devo solo aspettare! Wow! Eccolo lì! Miau miau! Semplicemente perfetto! Fatto! Chi è stato? Occhio preso! Perfetto! È ora di annappiare i fiori! Troom trick! Ciao cara! Oh! Sei già a casa! Devo nascondere la coda! Non farlo! Ecco fatto! Guarda qua! Anica! Avanti! Gli ho fatto una foto! Oh! Oh! Scusa! Che succede? Ti ho detto che era catnap, no? Non capisco di cosa tu stia parlando! È pazzo! Kevin, siamo stanchi di te! Ma come? Gabriel! Oh! Perdente! Come ti permetti? Oh! Oh! Stai lontano! Vattene! Oh! Così bagnato! Oh! Più veloce! Ti raggiungerò! Ha scomparso di nuovo! Ma deve essere qui! Oh no! Il mio tesorino! Sono qui! Ehi, catnap! Ciao! Oh oh! Ti piace il mio casco? Ti sta bene! Chi è il perdente adesso? Ora ti ho sicuramente preso! Facciamo una foto al vincitore! Semplicemente fantastico! Oh no! Aspetta! Ora ti faccio vedere io! Vieni qui! No! Questo no! Ora basta! Ti prenderò! Anika? Ho fatto una scoperta! Oh! Che c'è? Oh! Questo no! Crei sempre dei problemi! Kevin! Smettila di scappare da me! Stai lontano! Dai amico! Stavo scherzando! Vuoi un po' di tè? Certo! Dei biscottini? Oh! Che peccato! Non c'è problema! Ora lo raccolgo! Perfetto! Regola dei cinque secondi! Grazie! Oh! Mi è rimasto qualcosa in gola! Lascia che ti aiuti! Dai! Manda giù! E ora ti troverò ovunque! Aspettate un attimo! Sono di nuovo qui! Questo no! E adesso che faccio? Ho veramente paura! Devo nascondermi! È in fretta! Ci deve essere qualcosa per proteggermi! Questo non va bene! E neanche questo! Oh! Un massaggiatore! Lo stavo giusto cercando! Ma non è il momento giusto! Un aspirapolvere! Oh! È così polverosa! Ezzio! Questo potrebbe funzionare! Forza! Questo lo fermerà sicuramente! E ora dobbiamo solo aspettare! Ecco fatto! Di sicuro cadrà nella mia trappola! È qui! Ehi! Lo so che sei qui! Dì addio alla tua vita! Cosa? Ma come ha fatto a farlo di nuovo? Stai attento! Ti prendo! È così divertente! Ti è piaciuto il nostro nuovo video? Allora assicurati di mettere mi piace e di iscriverti!